Non so, Claudio vuoi parlare tu che sei un altro sempre che lui è stato coinvolto anche in Ispire quest'anno perché abbiamo avuto un flusso dati che è andato già sotto il discorso Ispire. La prima cosa da far notare è NRC Biodiversity. Da quest'anno praticamente i gruppi di NRC sulla biodiversità fino ad ieri, possiamo dire, erano due che sono quelli che io ho scritto qua sotto. Uno che si occupava di Biodiversity Data and Information e l'altro che riguarda Biodiversity Ecosystems, Indicators and Assessment. In realtà non si è mai capito bene quale fosse la differenza. Tanto è vero che ogni volta tutte le comunicazioni dell'agenzia arrivavano a tutti e due i gruppi. Giustamente l'agenzia ha opportunamente fuso i gruppi. Siamo ritornati al vecchio assetto perché alcuni anni fa era Nature Protection e Biodiversity, era un solo gruppo. Da questo nuovo gruppo Biodiversity sono state scorporate le foreste, ritengo prevalentemente per gli aspetti produttivi, perché immagino che la foresta come ecosistema foresta chiaramente sta ancora qua, però un po' a similitudine dell'agricoltura evidentemente, quindi foreste come self-culture, diciamo così. Credo che sia questa la differenza. Il gruppo è composto da tutte le persone che vedete sotto. Il quadro di riferimento. Il quadro di riferimento io mi sono riferito, io purtroppo stavani non ho potuto partecipare, però credo che sicuramente avete citato l'ultimo documento approvato dal Management Board di Maggio, in cui oltre a questa ridefinizione dell'assetto degli indicatori, si riportano anche le schede dei vari gruppi di NRC e in particolare per quelli che riguardano la biodiversità si attribuiscono determinati contributi attesi. Io qua trascuro un pochettino gli aspetti normativi, perché insomma li diamo più per scontati. È evidente che l'aspetto normativo fondamentale sono le due direttive ambientali europee sulla natura, quindi direttiva uccelli e direttiva habitat. Mentre invece è più interessante esaminare quali sono i compiti, che nel documento vengono categorizzati in tre classi. I flussi di dati prioritari operati dagli NRC che riguardano le aree designate, cioè il CDDA che è il Common Database on Designated Areas, incluse le marine protette di areas. Lo tengono sempre a far notare incluse le aree marine protette. Non so bene, per noi non è un problema, perché per noi stanno già dentro. Probabilmente perché per qualche paese non è così, forse hanno degli archivi separati. Non so dirvi, comunque loro ogni volta le evidenziano. Quasi fosse una cosa che uno si può dimenticare, diciamo così. Poi c'è tutta una serie di contributi che riguardano revisione e commenti di prodotti dell'agenzia che derivano dalla consegna di dati, ivo incluso ovviamente il flusso di dati prioritari. Ah, tornando al punto precedente, devo anche far notare che questo è l'unico flusso di dati prioritario che riguarda la biodiversità, quindi anche per questo è abbastanza importante. Per il secondo gruppo, ad esempio, c'è il supporto sul discorso di EUNIS, quindi sugli aspetti che riguardano le specie, gli habitat e i siti. Il reporting, tipo il reporting che è stato fatto a seguito della rendicontazione delle due direttive europee, di cui è l'articolo 17 e 12 rispettivamente. Il supporto per quanto riguarda dei rapporti che derivano dalla, che riguardano gli Emerald Sites, cioè i sites, i siti della convenzione di Berna. E, come peraltro già è stato detto, il supporto ai rapporti europei, incluso appunto il SOER ed altri prodotti che abbiano dati che riguardano i countries, i paesi. Poi ci sono tutta un'altra serie di prodotti, diciamo così, più generici, che riguardano in generale, diciamo, non legati strettamente ai flussi di dati, quindi i rapporti tecnici, i messaggi, i rapporti sugli indicatori, naturalmente. L'aggiornamento anche di fact sheet indicatori, di schede indicatori, di cui al Sibai, per esempio. Il Sibai è lo Streamlining European Biodiversity Indicators, è il set di indicatori europeo che riguarda specificamente la biodiversità, sono 26 indicatori. E il CSI, cioè il core set degli indicatori, il core set generale europeo, di cui ovviamente una parte riguarda anche la biodiversità. I temi di attualità. I temi di attualità, diciamo, sono quelli che sono stati trattati a Copenhagen nel recentissimo workshop annuale, al quale ha partecipato Arianna Radis, che sta preparando fra l'altro una sua, cioè una relazione su questo incontro e poi la farà circolare. Io dico solo rapidissimamente quali sono stati i temi, i temi principali ovviamente, perché immagino che abbiano parlato anche di altre cose, comunque i temi centrali sono stati questi, i sistemi informativi sulla biodiversità, a dire la verità questo non è tanto un tema di attualità, in quanto è un'attività molto vecchia. Però probabilmente loro vogliono, diciamo così, maggiormente approfondire questo argomento che riguarda EUNIS, che vi dicevo prima, che riguarda il BISE, che è un altro sistema informativo. Il secondo argomento ha riguardato la distribuzione degli abitati, sia per quanto riguarda la mappatura, sia per quanto riguarda la modellistica. E su questo c'è un progetto congiunto fra l'Agenzia Europea e il Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi, che è storicamente sempre stato il leader dell'ETC europeo, qui dell'European Topic Center sulla biodiversità, direi da sempre, e lo è ancora, di questa indagine che riguarda la mappatura degli abitati terrestri in Europa. Il terzo argomento ha riguardato la biodiversità e l'implementazione di infrastrutture verdi nei vari paesi. E anche su questo è in corso un'indagine da parte della Commissione, in questo caso, sull'implementazione delle green infrastructure a livello nazionale. Tipo e caratteristiche dei contributi. Io qua ho fatto più che altro degli esempi. Allora, indubbiamente il contributo principale, anche perché è uno dei flussi di dati prioritari, è il CDDA di cui vi parlavo prima, il quale è anche l'unico contributo che ha veramente una scadenza previssata. Fra l'altro, come tutti questi flussi di dati prioritari, non so se è stato detto, è una scadenza tassativa. Vale a dire, se non si rispetta, si perdono punti, se no addirittura si viene messi a zero. Come voi saprete, c'è uno scorre sui flussi di dati prioritari, vengono dati dei punteggi, e uno dei requisiti fondamentali è la tempestività. Quindi se si ritarda, veniamo tagliati, segati subito. Quest'anno, però, questa scadenza è stata prorogata al 30 di aprile. perché da quest'anno c'è stata una novità molto importante, perché c'è stata una modifica di struttura molto profonda della banca dati, legata essenzialmente alla necessità di omogenezzare la componente geografica della banca dati secondo la direttiva Inspire. E però, con l'occasione, è stata anche rivista la componente non geografica, quindi tutti quelli che sono i metadati. Prima ci limitavamo a consegnare un banale file access e degli shape file. Quest'anno, invece, ci sono stati due file, un gml che riguarda tutta la componente geografica, un xml che riguarda, invece, i metadati. Devo anche dire, per inciso, che su questo parlava prima Riccardo della collaborazione con DG, Sina, Sinanet, eccetera, mi sembra che su questo ci sia stata una collaborazione ottima. E quindi ben venga, diciamo così. Tutte le altre contributi non hanno scadenze prefissate, quindi arrivano quando arrivano. Devo dire anche che nel nostro caso, fortunatamente, finora non è stata una cosa drammatica. Intanto non ne arrivano tantissimi. Ne arriva magari uno, due l'anno, insomma, non sono numeri così elevati. E normalmente non arrivano con scadenze capestro, quindi magari danno anche un mese, anche due mesi, qualche volta forse anche di più. Quindi diciamo che da questi punti di vista si riesce a gestirli abbastanza bene. Quali sono esempi di questi altri contributi? Contributi a pubblicazioni, quindi a veri e propri report. Per esempio, il report che fu fatto nel 2015 a seguito del lavoro di rendicontazione delle due direttive. Questo è stato fatto circolare a tutti gli NRC By Diversity, ovviamente quindi in qualche caso coincidevano, ma in qualche caso no, anche a quelli, per esempio io, che non avevano partecipato al lavoro di rendicontazione. Quindi un altro punto di vista, un'altra revisione. L'altro esempio, il contributo alla revisione di indicatori. Questo ci è arrivato di recente, in realtà questo è un indicatore molto trasversale, non riguarda solo la biodiversità, perché è Landscape Fragmentation Pressure from Urban and Transport Infrastructure Expansion. Quindi l'impatto sulla frammentazione di paesaggio da parte dell'espansione dell'infrastrutturazione. E l'altro esempio di contributo può essere, in questo caso molto specifico, una revisione di una classificazione che è relativa ad EUNIS, che riguarda le Grassland. Fra l'altro non l'ho messo, perché pochi giorni fa ne è arrivato un altro simile, su un'altra categoria di EUNIS, sul quale fra l'altro stiamo cercando di coinvolgere i colleghi di Carta della Natura, perché questi sono gli argomenti sui quali loro sono più, ovviamente, ferrati molto più di noi. Opportunità e criticità. Le opportunità sicuramente per noi l'allargamento del nostro orizzonte nazionale verso delle problematiche più ampie, ovviamente. L'interscampio di informazioni che possiamo avere con gli altri paesi. L'opportunità anche di eventuali collaborazioni con altri colleghi, con colleghi di altri paesi. Ma anche, e questo può essere una cosa anche sicuramente di carattere generale, ma per la biodiversità forse assume una importanza particolare, la possibilità di far emergere in sede di riunione, in sede di contatti con gli altri colleghi, dei temi propri della nostra area mediterranea e del territorio italiano, magari in particolare. Aspetti che molto spesso, in una visione che magari è prevalentemente nord-centrica, possono essere trascurati. Ripeto, per la biodiversità, questo forse vale per tutti i temi, per la biodiversità però, secondo me, ha un'importanza particolare, perché naturalmente i paesi mediterranei non sono la Svezia, la Finlandia, la Norvegia, eccetera. Criticità. Sicuramente ci mancano delle competenze all'interno del gruppo, d'altra parte la biodiversità è un argomento talmente vasto e con tali specificità da essere quasi impossibile che sia completo. Però io ho citato quantomeno l'aspetto faunistico. Noi sulla fauna, siamo, a parte Arianna che è ornitologa, siamo praticamente completamente scoperti, almeno come gruppo di NRC. Poi chiaramente ci può essere qualche altro collega di Ispra che non è NRC ma che noi possiamo contattare, così come ci può essere il collega esterno che magari io conosco, altri conoscono, che può... Però ecco, un certo rafforzamento su questo secondo me ci vorrebbe. E secondo me ben venga anche un coinvolgimento esterno purché naturalmente molto valido, perché una cosa è che io scrivo a un mio collega, amico, persona che conosco, che magari è un esperto di lepidotteri per dire, li scrivo io a titolo personale e una cosa è che lui è NRC, fa parte del gruppo, viene informato, riceve i messaggi e quindi il livello di coinvolgimento è molto superiore. Come poi nella pratica si possa attuare, io questo non lo so, ma insomma ritengo che sia importante. e poi l'altro aspetto, ma mi sembra che già altre persone l'hanno toccato, la necessità di formazione, quindi di maggior anche consapevolezza dei vari NRC, parlo anche proprio delle persone fisiche in questo caso, anche del riconoscimento dei ruoli, degli obiettivi della rete e così via, perché altrimenti chiaramente non... se non si sa questo poi è difficile contribuire evidentemente. e l'altro discorso, anche questo mi pare che sia stato fatto, ma insomma è quello di una maggiore circolazione di informazioni, in qualche caso anche all'interno dei gruppi, ma sicuramente tra un gruppo e l'altro, ovviamente quando sono argomenti di comune interesse, diciamo. C'è qualcos'altro? No. Grazie Claudio. Se ci sono domande, io voglio... abbiamo ancora due altre interventi, vogliamo dare un po' di spazio a tutti, comunque se ci sono domande i temi che Claudio ha detto sono qualcuni, sono di queste difficoltà, sono quelle che poi abbiamo tutti. Poi su questo noi faremo comunque una sintesi che faremo circolare e che poi manderemo anche magari alla direzione, visto anche che poi il management board è in qualche maniera come rappresentare, per dare proprio un po' un esito, insomma cercare di mettere in pratica tutte queste azioni. Domande? Allora proseguiamo con la qualità dell'aria. Abbiamo ancora qualità dell'aria, suolo, acqua.